Intanto ripartiamo dal buon punto di domenica scorsa contro l'Arezzo, anche per come si era messa la partita. Sì, assolutamente, un buon punto contro una squadra forte, ben organizzata e per come si era messa la partita siamo ben contenti di aver portato a casa questo punto. L'impressione è che questo mese di dicembre sia un po' decisivo per sapere cosa vuol fare la grande e la Pistoiesi? Sì, sicuramente è un mese decisivo per noi, dobbiamo puntare il più in alto possibile e sicuramente faremo del nostro meglio per farlo. Due cose che sono emerse dalla conferenza stampa, una intanto l'atteggiamento tattico di domenica con una tua posizione inedita. Sì, 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 sono giocato un po' più arretrato rispetto a Busto Arsizio, ero appunto dietro Gucci, però mi sono trovato bene, è stata una bella partita e anche nelle vesti di assist man mi sono trovato appunto bene. E poi quella partenza da handicap con magari anche il pubblico che è mancato all'inizio e dopo invece vi ha spinto per recuperare? Sì, sicuramente è stata una partenza che non volevamo, abbiamo sentito la mancanza perché appunto mancava il nostro sostegno solito, però appunto poi quando sono entrati abbiamo pareggiato subito la partita, quindi siamo contenti per questo. Noi puntiamo al massimo, ecco, dobbiamo restare umili, guardare sicuramente in alto, secondo noi ci guardiamo davanti e poi certo lo sguardo anche dietro lo diamo, però comunque dobbiamo andare più in alto possibile.